Torna Memorie dalla linea gotica orientale. Il progetto nato per salvare e trasmettere la memoria dei tragici giorni dell'estate del 1944 in Valconca. Il progetto è promosso dai comuni di Montescudo-Montecolombo, Gemmano, Montegridolfo, San Clemente e Mondaino. All'archivio raccolto in questi anni si aggiungono nuovi reading, la sottotitolazione in inglese della testimonianza di Cesare Finzi, ebreo scampato alle persecuzioni semitiche, rifugiato sia Mondaino, interviste a docenti universitari ed esperti di strategia militare per capire gli accadimenti che portarono a quel tragico 1944, una mappa interattiva e approfondimenti seminariali per docenti. Visita il sito www.memorielineagotica.it e il canale YouTube Memorie Linea Gotica per vedere le 40 videointerviste a testimoni oculari e tanto altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.